Grazie alle numerose segnalazioni al 112 dei residenti insospettiti da un anomalo via vai di persone da un appartamento a Marchesane di Bassano, i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio un marocchino di 39 anni. Sono partiti gli appostamenti, ieri mattina è scattata la perquisizione, con il supporto dell'unità cinofila nell'abitazione del Magrebino, sono stati infatti rinvenute ashish e marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Per il 39enne si sono aperte le porte del Sampio X.